via con un'altra adesso ho altri tipo due minuti per run perché parta e vediamo questo come va ma se va male va male cioè se va male basta per stasera overwatch e sinceramente sono anche abbastanza tentato di proprio basta proprio basta basta overwatch vabbè quando partirà in più mi metto a fare altre cose io non vi faccio vedere gne 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 in arrivo a osservatorio gp terra preparatevi ad attaccare seleziona il tuo eroe grazie a tutti grazie a tutti fare assistenza tecnica ad agente chiuso in mule... ancora... oggi è mule ovviamente ci mancano dei... rainer non è molto efficace rainer è un'altra tank ma porca la puttana... vi odio tantissimo... abbiamo perso anche questa comunque... qui lo dico e qui lo dico... come diceva Ezio Greggio... Ezio Greggio che diceva qui lo dico e qui lo nego... qui lo dico e qui lo dico... e qui lo dico e qui lo dico e qui lo dico... abbiamo un soldier nubo? ma da morire nubo? è che qui con me non è che posso fare miracoli eh... aspetta... continuiamo a spostarlo non siamo usciti dal piazzale non vedo niente ho congelato zarya a caso adesso non è che adesso non è che se mi avvicino al monitor vedo meglio mamma mia che lag ragazzi che lag che lag finito a 2 fps che lag allucinante tra l'altro ho scritto anche l'assistenza tecnica blizzard mi escono le icone di problema di connessione e non riesco a capire perché dal muretto visore tattico attirato daria è andata ma che fanno bastion continuiamo a spostarlo fanno bastion andiamo a romperglielo andiamo a rompere bastion così mi ha rotto zarya stiamo giocando da schifo non so come abbiamo fatto un punto ma ma va bene così la sedia è un po' scomoda un catalogo ikea in svedese si chiama torbion questa scheda questa scheda questa sedia scusa bastion bastardo mi ha ucciso però ho salvato diva annunciamo che ho la ultra va mamma mia ste cuffie che fastidio un minuto e 0,2 dove va il payload ci arrivo da sopra si ci arrivo oppa maledetto soldato io sapevo che morivo lì ho morto una quantità imbarattante di volte ma va bene così oh Guarda che manco vola! Vabbè, ero lì a infastidirli più che altro, non c'era nessuno che mi sparava. Dai però, adesso spingiamolo per il metro che manca. No, il carico non si consegna da solo, no. Niente, non riusciamo a prendere l'ultimo punto. Ah, 10 centimetri non l'abbiamo portato, guarda. Punteggio, 3 a 0. Inversione delle parti. Eh, riscriviamo di un VG va. Preparate le difese. Seleziona il tuo eroe. Ok. Eh, difesa. C'ho le due opzioni, orisa o diva. O orisa o diva. Ecco, insoniamo tutte le notifiche di Twitch, che tanto non mi servono. La vostra ingolumità è la mia prima preoccupazione. Sì, è sempre con me. Attaccanti in arrivo tra 30 secondi. intanto ero lì a perdere del tempo ho qua un secondo monitor per quello che giro la testa da un lato ogni tanto per vedere se si vede tutto e un tank in meno e un tank in meno Eh Reinhardt io non so dove vuoi andare D.Va io non so dove vuoi andare lassù ma... Vabbè ma tre... Sì ma... Che cazzo venite a darmi la mano? No come al solito devo giocare tutto da solo Disorganizzatissimi... Non si sa come l'abbiamo fermati lì Si prega di scostarsi dietro la barriera Io vorrei sapere dov'è il resto del team Andiamo qua da solo a tenere il payload Vabbè... Io smetto di fare domande... Amma... Non mi faccio spostarsi dietro la barriera Mancano trenta secondi Non so come closest Non so come la barriera Non so come la barriera E nonsense E non so come la barriera Non so come la barriera Ciove leitura Conclusa Conteggio finale 3 a 0 Vittoria Azione migliore Io ho scritto che non so come ma abbiamo vinto Non male GG Restiamo in squadra con sta qui Con sta gente qui No Non funziona abbastanza bene per me E quella dopo potrebbe funzionare peggio Però per esperienza ho visto che non funziona molto bene Guarda randomica così Comunque lagga Lagga tanto Dovrebbe ma sta lampada scalda tanto Che ora abbiamo fatto E 23,44 Poteva andare peggio Se va a piovere Posso togliere la chat da qua Ma ancora Col tavolo Ce ne sono 2,3 chat qua di cosa Con 2 Io lo metto in modalità teatro Twitch Non riuscirò mai più a toglierlo Attacco Attacco di di terra Viva Secondo tank Due tank Abbiamo un solo healer ma Potremmo farcelo stare bene Io gioco per vincere Ero a distanza qui una volta Avevo una bella tintarella Sono pronta a uccidere Sì Please go Farah on my... oh, my queen. Widow, could you switch Farah? Hmm... Widow, please switch. Widow, odio... Could you switch? Odio abbastanza quelli che... chiedono certi eroi... a questo livello. Sto laggando da morire. Ah, eh, avevo visto. Ho visto, male. Perfetto. Bene, il Q faccio curare. Mi qui giro l'angolo. Spacco i droni. Ah, si immetra. Mi dispiace, ma ti ammazzo. E sto laggando tantissimo. Non so perché va a scatto il gioco. Sprecato, ma non riesco a giocare. No, sta succedendo un casino. Non riesco a giocare. Oh, che palle sta torretta. Che cavolo. go! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Oh, wow! Forza! Eh, vabbè, non so più cosa fare. Qui due e qui due, non dai, allora. Un tre. Due contro uno, no, ma va a scatti. No, era intollerabile. Ok, andiamo su. Ah, non sono riuscito ad andare su a romperla, aspetta. No, era una cosa. Widow, could you please go Vera? I know you've played her before. andiamo tutte assieme e le varco parca miseria levatemi da qua curatemi ma la 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 non ho capito perché ha puntato solo me non perché sono scappati tutti dobbiamo spostare io sono on fire comunque eh con solo 9 eliminazioni e mai no 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 bravo bravo vedo vedo il il è il 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 tanto per cambiare un 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 che sia fatta giustizia è il non è sicuro che una vita mi godo la tranquillità ciao attaccanti in arrivo tra 30 secondi qui anche il personaggio nuovo è buono all'inizio ragazzi non andate sotto il palo riuscire con voi abbiamo una fara da lì che rompe le balle la vedete in Italia ho cercato di schivare ma cominciare a fargli danno tipo no 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 non ho capito perché finisco sempre morto io in questi scontri ma adesso ho deciso che mi diverto telemarco dove siamo aiuto dai il tank che ci ha fatto il giro su cacchio dai oh finché il payload sta là sta là va bene ma no il carico ha raggiunto il cerco e abbiamo perso bene io speravo che avessimo vinto invece abbiamo perso tranquillamente ok ok stop the payload please stop the payload ok we lose gg gg guys gg didn't do shit didn't do shit his bastion ok 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 we lose we lose thank you thank you all thank you all thank you all yeah hit what fred how do we in questo il fastidio e lo schifo 765 e ogni volta che dico ma chi se ne frega del rank poi comincio a salire Grazie. 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 Ok, allora, dove siamo? Indusivo Skaia, attacco, diva l'angia presa, soldato l'angia presa, abbiamo un healer, ne farei il secondo healer, pochi support, pochi attacco, sombra, mail, sorry. Scusate, ero in streaming con Twitch e non ho disabilito il microfono. Ok, polverizziamo un altro record. Non sono convinto. Non sono convinto. Sono sempre meno convinto. Vabbè, andiamo. Oh, è iniziato, conquistate l'obiettivo A. Don't mess, è basso, minchia, framerate è bassissimo, 31. C'è un busto, c'è un busto, non c'è più. 30 fps, devo riavviare il gioco. Sì, ma 29 fps, non posso fare un cavo. Scusate, non lo ho io. Secondo me è questo il problema. È Twitch il problema. Scusate, pausiamo. No, non è Twitch, il problema è qualcos'altro. Troppo caldo, forse. Riavvio tutto, vediamo. Gente, curatevi. Dov'è? Ah! Ok. Ok, ok, le ha messe lì. Bene. 30 fps, che cacchio sta succedendo? È una scala video questa. Molto bene. Molto bene. Ho cambiato? No, no, basta, non è sempre lo stesso. Non bolloti, che lo scontro non è finito. No, ma non funziona, non funziona. Chilled. L'erba cattiva non muore. Sono con voi. Bene. Dai, su, ho spaccato Bastion. Non muovete. Non muovete, vittà. Corretta l'emica. La missione non è ancora finita. Si parte. Raccruppatevi con me. Vabbè Dai, cavolo, su Widowmaker, perché Widowmaker? Mi chiedo, perché Widowmaker? Vabbè, Widowmaker Corri, 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 corri Eh, niente Niente, niente, non va Non ce la facciamo No, ma soprattutto io non posso andare a 20 fps 35 Uccidente, che sta succedendo? Così va meglio Non scendete Corretta nemica più avanti Su questo obiettivo è che il mio nome Non sono più, ragazzi Nice E via, divisore trattico Anche chi scoperteva così lento Vediamo cosa va aperto Ma non avrà aperto Questa che è stuola Se controlliamo La gestione di attività Ma Powerwatch è al 40% Eh, tanto chiaro Sì Sì No La 32 di nuovo Ce l'abbiamo Secondo che adesso Un qua Va bene Vediamo di darci una cura Attaccanti in arrivo Tra 36 anni Se avessi portato la mia attrezzatura da hockey Qui avrei potuto giocare Sicuro Per la mia attrezzatura di attrezzatura da hockey Sì 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 Il volume è massimo Vieni tessuti E Berton Oh, bella su questo Oh, bella su questo Non sto Mi ho fatto Sì Perfetto Oh, meglio Alza il volume Wow, te la madre è fra il forno Il Prendiamo di darci una curata Non salvo a paletta Torrio, attiva Ma che mi salvo vivo per questo Prendiamo la velocità Perzione curativa Volume al massimo Armatura per voi Balla! alzando a manetta armatura venite a plazia vieni a targo tio nel mirino questo mi farà sentire meglio resistenza regobert ci ho provato resistenza neutra non riuscite a sentire musicoterapia ci sono qua io gente oh 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 vogliono accelerare vediamo di darci una curata mancano 60 secondi mancano 30 secondi Vabbè ma le state sprecando tutte? Partita conclusa Ponte di finale Buona Due a zero Vittorna Azione migliore Vittorna Eh, io devo abbandonare la partita Devo fare esci dal gioco perché c'è qualcosa che non va E interromperai qua la diretta perché devo capire perché Overwatch va così lento Buonanotte a tutti e buon primo di aprile Allora 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 Grazie a tutti.